Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4, cresciamo insieme ragazzi, e siamo come al solito nella nostra famiglia, diciamo, come si chiamano loro? Tillerman, me ne ero dimenticato ragazzi. Allora, la tipa sta mangiando il tramezzino al formaggio che era destinato al... Oddio, oddio, aspetta, me si è svegliata la bambina. Cambia il pannolino di Anita. Ragazzi, giusto per farvi capire, oggi Anita diventa toddler! Oddio, ancora? Oddio che stress, oddio che stress. Cura dei neonati, ma che? Io volevo nutrirla. Ah, perché sto con Anita, giustamente? Ok, e nutriamola poi, visto che ci troviamo. Allatta il seno e poi porta qui. Metti Anita qui, sperando che poi se ne occupi la nonna. E ragazzuoli miei belli, andiamo a creare un evento sociale, raga. Pianifica un soggiorno temporaneo? No, pianifica evento sociale, così vediamo anche questa roba. Raga, ma in realtà pianificheremo un compleanno, quindi raggiunto il livello 3 di genitorialità. Mai come, diciamo, con questa nuova espansione, anche l'abilità di genitorialità, quindi anche il game pack vita da genitori, è tornato in grande azione, raga. Ebbene sì, oddio, lei deve mangiare comunque, posso dire. Allora, l'evento però lo facciamo per le 15.30-16, come festa di compleanno. No, saremo tre persone, praticamente. Festa per la nascita. Cos'è stato aggiunto, raga? Posso capire? Festa per la nascita, riunione di famiglia, secondo me. E poi... Oddio. Festa per la nascita. Cioè... Momento di gioco per bebè, non mi ricordo. Vabbè, lo capiremo solo vivendo. Allora, Sim festeggiato, Anita Tillerman, ospite. Ragazzi, follettini e follettine, che ve lo dico a fare? May Prescott? No. Cioè, saremo noi, soli, soletti. Ma che museo? Lo facciamo a casa, giusto per fare una... Come dire... La residenza Tillerman? Ok. Oddio, ma me l'ha già fatto! Nooo... Porca merdaccia! No, ragazzi, non volevo fare... Oddio, ma siamo a casa della nonna, tra l'altro! Uh, Gesù, va bene, approfittiamo per farvela vedere, raga. Metto un attimo pausa, siamo solo noi, raga. Un membro della famiglia, prima visita a un membro della famiglia, va bene. Allora, abbiamo questa cucina, meravigliosa, mi piace, poi abbiamo una stanza vuota, il soggiorno, il bar che non deve mai mancare a casa di Clelia, raga, è un po' ubriacona lei. Lo studio, con, da vedere il... la palestrina qui, la camera di Clelia, molto bella, l'ex camera della nostra Carol, e poi qui c'è una nursery che, diciamo, che Clelia ha fatto nel caso in cui, appunto, venisse lei, Anita, a... come dire... Ehm... a casa. Adoro, adoro! Allora, signori, ehm... facciamo una cosa, mettiamo... mette Anita qui, non si può spostare questa roba, mettiamo Anita qui e cuciniamo... ehm... cucina, facciamo una torta, raga. Ehm... torta, 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 torta bianca, però dobbiamo stare attenti che poi la nostra Carol non se la mangi. Raga, un compleanno un po' alla cavolo. A cavolo proprio. Perché è triste? Deponi sulla schiena del box. Ah, bellina! Carol l'ha portata qui. Adoro, adoro. Nonna... Balbetta, Clelia. Nonna... Sta imparando, raga, a parlare. Finalmente, tra l'altro, vedremo la piccola Anita diventare toddler. Adoro. Ehm... ok, dobbiamo stare attenti che Carol non si mangi la torta. Dobbiamo subito mettere le decorazioni... Ehm... Top, fermo. Ehm... Aggiungi le candeline, subito. Ora andiamo a leggere le due pietre miliari. Allora, intanto tu... Ehm... Fai un pasto veloce, eh. Mangiati dei cereali. Dai, sono le dieci. Allora, ragazzi. Due pietre miliari. Prima visita a un membro della famiglia. Anita ha visitato per la prima volta un membro della famiglia. Trascorrere più tempo con la famiglia aumenta le relazioni e legami che dureranno nella vita. Anita ha acquisito la capacità di rotolarsi sul pancino. Ora potrà iniziarsi a mettere sul pancino per conto proprio, in modo da raggiungere ulteriori pietre miliari nella motricità basilare. Lei sta piangendo, ragazzi. Adoro. Allora, vi faccio vedere. Guardate quante robe. Ancora non abbiamo mettiti le dita dei piedi in bocca. Impara ad arrampicarti. Scusa. Prova ad andare a nanna sul pancino. Guardate, amichevole. Sorridi a Carol. Oh, bellina. Se la sta prendendo in braccio, per fortuna. Ok. Senti, Carol, facciamola crescere subito, dai. Vediamoci questa roba, raga. Lo sapete che io non voglio fare troppe... Cioè, dei video troppo lunghi. Soffesteggia. Aspettate. Aiuta a soffiare le candeline. Anita. Anita, Tiller. Vabbè, ragazzi, comunque non abbiamo aspettato manco l'arrivo. Ma non ce la facciamo ad aspettare lui. Diciamo che... Ora, questa non è proprio una festa di compleanno, dai. Oh, girl. Bellina. Bellina. Scusate, ma... Amore. Troppo tenera. Troppo tenera, ragazzi. Che peli sulle braccia c'ha la nostra Carol. Raga, fatemi fare una foto. Oddio, raga. Ma che peli c'ha sulle braccia. Abbiamo assolutamente raderci. Che va bene, eh. Per l'amor di Dio, cioè... Oh, Anita ha guadagnato un tratto bonus. Puoi vedere tutti i tratti bonus di Anita nel pannello Simologia. Beh, beh, ti attendono giorni in cui ti divertirai con il giocatto e esplorerai il mondo. Imparerai a comunicare con le parole anziché con le lacrime. È il momento ideale per iniziare a sviluppare abilità per il futuro. Allora, ragazzi. Sostituisca Cauta. Io ne metto tre casuali e decidiamo tra quelli. Uno, quindi abbiamo Frivola, abbiamo Indipendente, abbiamo Frivola. Ragazzi, due su tre è Frivola, quindi Frivola, ragazzi. Adoro. Olè! Uh! Ma, ragazzi, ma è bellissima! Oddio, patata, ma sei bellissima! Amore! Amore, ciao! Ciao, poi ti vado a fare un bel makeover. Un bel makeover. Allora, prendi un pezzo e visto che ti trovi, se ce la fai, prendi un pezzo anche tu. Anche tu. Raga, scusate. Acquisita l'abilità di movimento. E fin qui. Frivola, lattante di primo ordine, il tratto premio. Anita è di primo ordine. È un lattante che è stata amata e ben assistita. Scusate. Il che l'aiuterà a mantenere una visione ottimistica della vita. Adoro. E abbiamo già fatto, celebrato un compleanno. Noi abbiamo un sacco di pietremigliari da svolgere. Adoro. Mi piace tantissimo, ragazzi. Guardatela! Patatina! Ma, ragazzi, questi capelli mi piacciono tantissimo. Per la piccola Anita, ovviamente, nei commenti scatenatemi e fatemi sapere cosa ne pensate. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Dobbiamo comprare un po' di giochi, ragazzi. Qui c'è concedito una bevanda. Facciamo che... Prepara... Prepara una bevanda. Succo di malto, dai. Acquisita l'abilità di comunicazione. Patata! Ma è bellissima! Vediamo le sue relazioni. Non ha ancora compatibilità. Va bene. Però abbiamo un po' di rubine adesso che ci piace tantissimo. Mamma mia! Ma è stupenda, ragazzi. Dobbiamo assolutamente cambiare... Come dire... Dobbiamo assolutamente cambiare il... Come si dice? Dobbiamo fare il makeover, raga. Ma la nonna dov'è in tutto questo? Scusate. Dov'è la nonna? Nonna? Eccola! Eccola, patata! Amichevole! Affetto! Abbraccia affettuosamente! Dai, raga. Ora ci possiamo permettere. Cos'è che... Per il tratto cauto. Anita è in un luogo sconosciuto che è traumatico. Raga, perché era ancora cauta. Ah, vedete? Si è amichevole con Clelia. Guardate lei che cammina! Raga, ma cammina di già! Ma amore! Ma è bellissima! Bellissima! Guardate... Ci abbiamo tutti amichevole con Clelia, raga. Siamo molto felici di essere a casa di Clelia. Mi piace, mi piace. Dai, lui appena finisce di lavorare, che dovrebbe prendere anche una promozione, viene qui a casa. Di Clelia, ovviamente. Oh, patata! Ciao, nonna! Patatina! Aiuto o no? Buffo? Compartamento frivoli? Fai delle facce buffe, perché lì è frivola, eh, raga. Ricordiamocelo. Amore! Amore! Facciamo... Ah, ci sta! Allora, sulle cose frivole della... Della nipote ci sta. Chiacchiere! Balbetta! Dai! Che bellina... Affetto, mando un bacio. E aiuto, no? Buffo, complimento frivoli... Canta una canzone. Dai, ci sta, ci sta. Intanto la nostra Carol si è, ovviamente, concessa una bevanda. Ripulisci. Anche se dovessimo fare il bronzo... Raga, non abbiamo amicizie in questa... Comunque siamo a San Maishuno, volevo dirvelo. Cioè, guardate, Claudia, anche in che bel appartamento, ma soprattutto in che bel quartiere abita. Mi piace tantissimo. Raga, tra l'altro, volevo parlarvi di una cosa. Non so se avete visto il... Accoccolati. Cosa significa accoccolati? Non so se avete visto il trailer della Paradox di Life... Life by You, che sarebbe il nuovo simulatore di vita che verrà, diciamo... Oh, amore. Ecco, in braccio. Che verrà, appunto, pubblicato dalla Paradox, che è l'associazione, diciamo, videoludica... Che è l'associazione... L'azienda videoludica che ha prodotto anche City Skyline, che conosciamo benissimo. Promosso a caporale. Adoro. Porta qui Dean Parker. Vieni qui e mangiati anche tu un pezzo di torta. Prendi un pezzo. Allò! E volevo sapere voi cosa ne pensate. Se vi è... Che bella questa nuova divisa. Se vi piace, se non vi piace... Allora, devo dire che l'idea mi piace molto. Ovvio, mi sono abituato talmente alla grafica un po' cartunesca di The Sims... Che quella grafica che ricorda molto The Sims 3... Non lo so, non mi convince tantissimo. Però devo dire... Oh, amore, gli sta leggendo qualcosa? Legge il bambino. Adoro. Però devo dire che l'idea che tutti i sim siano giocabili, nello stesso momento, che sia un open world, eccetera, eccetera, mi piace. Ragazzi, stravaganza rivelata. Amo i libri. Anita sembra nutrire un'autentica passione per i libri. Brava, Anita. Bebè che li amano, si divertono a giocare nei pressi delle librerie. Chiedono a qualcuno di leggere loro qualcosa più di frequente e hanno più probabilità di sfogliare i libri per conto proprio. Adoro. Allora, Anita ha preso la... Cosa ha bisogno? Zucchero subito. Piango se voglio. Adoro. Adoro. Vabbè. Raga, stravaganza. Ama i libri. Mi piace tantissimo. Anche perché credo che lui, nella cosa, abbia di leggere poi ad un certo punto libri ai bambini. Sta ballando. Patata. Comunque. Lui, ovviamente, amichevole. Chiacchiere. Impara a conoscere. Lui, ovviamente, amichevole. Pensieri profondi. Attività. No? Altre scelte. Allenati a combatte. Pronuncia un discorso motivante. Ragazzi. Ragazzi, diciamo che lui, adesso ha imparato però, affetto, abbraccia affettuosamente, diciamo che lui adesso inizia con... a considerare anche di più Carol, nel senso che dice, ok, raga, cioè, nel giro di sei episodi ho preso due promozioni, quindi non mi rompete più le palle. Sergente Mirore. Vai a fare jogging. Possiamo comunque permetterci una nuova promozione. Stravaganza rivelata. Aggressiva. È sempre più evidente che Anita è un po' più aggressiva rispetto a tanti altri bebè aggressivi, piace a zuffarsi e non esitano a colpire, a mordere, a dare calci ai sim, sempre che non siano buoni amici. Non devono nemmeno essere furenti con altri bebè. Fai attenzione. Ok. Con chi ha poco... Rapporto conflittale con la madre? Maliziosa. Calci, mordi. Dai. Tanto è triste. Adoro. Niamma. Oddio. Adoro. Vabbè, l'ammorsa. Allora, facciamo una cosa. Vediamo se possiamo disciplinare. Disciplina il comportamento severo. Urla contro la perfidia. Sì, ragazzi, lui è severo. Posso dire? Discipliniamo questo comportamento. Vieni, vieni. Meno male che è il tuo compleanno. Non devi essere aggressiva. Va bene? Adoro. Oh, ma è amore. Amichevole. Affetto. Dai, bacio familiare. Dai, lei è triste. Risolviamo questo problema. Vieni qua. Facciamo la pace. Lui prima la disciplina in maniera severa perché lui è un po' severo. Prendi in braccio. Altre scelte. Amichevole. Affetto. Bacio familiare. Dai, non piangere. Sei triste. Perché? Vieni. Diamoci un bacio. Ma non può, forse. Abbraccio affettuosamente. Amichevole. Storie. Racconto una storia. Dai, alla piccola. Dai. Lei perché è triste? Ah, ok. Ma ora cambierà. Oddio. A sonno. A sonno, raga. Ok. Diciamo che loro dicono alla madre, vabbè, noi torniamo a casa. Perché la piccola Anita è assonnata e la dobbiamo assolutamente mettere a letto. Forza. Devi tornare a casa, amo. Devi tornare a casa. Voglio vedere per l'appunto una cosa. Voglio vedere se Anita la possiamo mettere nel box. Oppure dobbiamo cambiarla in un letto per bebè. E secondo me potremmo cambiarlo. Allora, scusate. Lei è veramente stanca. Ok, fatemi capire una cosa. Riprodui. Ok, no. Aggiorna. Converti in un letto. Di manualità. Ok, scusate. Lei forse lo può fare. Sì, converti in un letto per bebè. Adoro. Adorabile. Vediamo che cosa... Che cosa... Ah, questa diventa un letto per bebè, secondo me. Che ci sta, raga? Posso dire? Adorabile. Ma lei può dormire in... Prendi in braccio. Oddio, si è addormentata. No! Va bene se ti addormentavi così. Amore. Abbiamo degli avanzi? Apri? Sì che abbiamo degli avanzi. No. Non abbiamo degli avanzi. Questo mettiamolo qui, tanto è avariato. Amore. Lei sta facendo il letto. Scusate. Volevo capire questa roba. Poi chiudo. Ah! Bellino! Allora facciamo così. Guarda. Legge Danita per farla addormentare. Tanto a lei piace... Eh... Legge Danita per farla addormentare. Tanto a lei piace... Piacciono i libri. Quindi secondo me... Patata! Guardate che bello! Quindi lei per ora ha solo due stravaganze, raga. Aggressivo e ama i libri. Ok. Ok. Adoro. Adoro. Amo, devi andare in bagno. Lei sta andando. Riattacca. Non vogliamo i... Amore! Ecco, lui devo dire che si sta impegnando. Dai, eh. Si sta proprio impegnando. Dopo il litigio che c'è stato. Amo. Eh... Qua puoi riparare tu. Aggiorna. Ehm... Ah no, non è quello rotto. È questo rotto. Ripara. E anche lui è andato a dormire. Adoro. Giustamente. Giustamente. Va bene ragazzi. Io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Sono molto contento di questa famiglia. Anita è cresciuta. È diventata bimba. No, bugia. È diventata bebè. È diventata toddler. Adoro. Le stravaganze dei toddler secondo me saranno ancora più interessanti rispetto a quelle dei neonati. Però devo dire che per ora mi sta piacendo veramente un sacco questa tipologia di espansione. Ma non ne avevo dubbi. E niente raga. Io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se siete nuovi e di attivare la campanella, di mettere un mi piace e commentare. Se volete sostenere questo canale c'è il tasto super grazie oppure il link di Stan Gaming. Io raga vi mando un bacio. Dal vostro video è tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.